Sono venuto per quel posto d'accompagnatore. Ah, zio! Deve avere molta pazienza perché ha un brutto carattere. Io sono un contadino e di pazienza ne ho da vendere. Su, zio! Buongiorno. Cosa fa? Deve imparare a conoscerla. Mamma mia, come sei brutto! Era meglio il cane. Vabbè, io se non altro non faccio la cacca per la strada. Beh, questo lo vedremo. Andiamo, va. Venga, l'accompagno. Ma no, ma che fai? L'accompagno? Lascia stare, guido io. Vai avanti tu, cammina, su.